se tu pensi che nel virtuale tu non ti guardi mai negli occhi cioè io adesso a parte guardo me stessa in questo stream no io sto guardando me stessa non guardo tempo non ti vedo e seppure ti vedessi non ti guardo negli occhi perché quando c'è io ho l'impressione di guardarti negli occhi ma non è reciproco cioè il guardarsi negli occhi che una che è la base dell'empatia online non è possibile allora immaginiamoci bambini cresciuti così in questa grande questa fortissimo elemento virtuale onnipresente anche con la didattica a distanza e queste saranno persone con una psiche diversa da chi invece si è rapportato della tridimensionalità a guardarsi degli occhi con il prossimo no e quindi io quali sono i rischi rischi sono quelle di persone che hanno un'empatia mozzata deficitaria quando si ha una empatia deficitaria perché c'è stato poco allenamento poco allenamento al guardarsi negli occhi a percepirsi a capire l'emozione dell'altro l'emozione dell'altro tu la la ferri molto da vicino no e ci vogliono degli elementi delle più esperienziali proprio fisiche no e questa quando c'è questa questo depauveramento emotivo nascono tutta una serie di problematiche nelle relazioni e soggettive l'individuo è proprio più povero più tendente alla regressione e più infantile e più a uno sguardo sul mondo più dicotomico più bianco e nero non vede le sfumature e meno competente in termini di capacità di mediazione col prossimo allora tutta questa virtualità è tutto questo impianto germofobico di controllo e di terrore sulla solo solo su quello che è il proprio corpo no tutto questo impianto genera malattia mentale grave perché non parliamo cioè quando stiamo parlando dell'isteria ottocentesca che ancora una malattia dove c'è sia in relazione con un corpo che parla e in relazione con le proprie emozioni e con quelle dell'altro no faccio qua parliamo proprio di individui robotici che non sono capaci di percepire l'emozione propria ed altrui grazie a tutti